ciao a tutti la primavera è il momento in cui tutto si rinnova per chi ancora non mi conosce sono sonia della natura in tazza il negozio specializzato nella vendita di caffè tè e pisane e novità di quest'anno prodotti di erboristeria siamo in via marconi 85d a costellazzano verona in primavera anche noi della natura in tazza ci rinnoviamo e questa è una novità è un'acqua profumata a marchio lavande un prodotto bio con oli essenziali e grumi di diguria senza alcol arricchita con vitamina c da nebulizzare sul corpo più volte al giorno per regalarti una sensazione di freschezza e di calmo benessere infatti oltre a idratare è rinfrescante e anche rilassante ideale per peli delicate in formato da 125 ml dermatologicamente testata senza parlare bene senza petrolati e gluten free fantastico per l'uso quotidiana e ideale da regalare lo trovi nel nostro punto vendita al valore di 14 90 di questa linea ci sono anche tanti altri prodotti basta il negozio oppure chiama al numero che vedi qui sotto ciao alla prossima